La campagna del Nordafrica, conosciuta anche come Guerra nel Deserto, fu combattuta in un teatro di guerra situato nel Nordafrica, in Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco, in cui si confrontarono gli italiani tedeschi da una parte e gli alleati dall'altra, durante la Seconda Guerra Mondiale tra il 40 e il 43. Il regio esercito italiano, in Libia comandato dal maresciallo Rodolfo Graziani, forte numericamente ma insufficientemente equipaggiato, diede inizio la campagna nell'estate del 40, entrando in Egitto, ma nel dicembre seguente le forze britanniche del generale Archibald Wavell, modernamente armate e molto mobili, passarono alla controffensiva, sbaragliarono l'esercito italiano e occuparono l'intera Cirenaica. Benito Mussolini fu costretto a chiedere aiuto ad Adolf Hitler, che nel marzo del 41 inviò in Nordafrica il cosiddetto Africa Corps, guidato dall'abile generale Rommel. Da quel momento le panze di visione dell'Africa Corps svolsero un ruolo decisivo nella campagna per le forze dell'asse. Nella primavera del 41 il generale Rommel passò l'attacco e riconquistò la Cirenaica Trane e Tobruk. Dopo altri successi, le forze italo-tedesche furono però sconfitte nell'inverno dello stesso anno, della nuova offensia britannica. Operazione Crusader e ripiegarono nuovamente fino al confine della Tripolitania. Il generale Rommel, dopo aver rafforzato la sua armata italo-tedesca, riprese presto l'iniziativa, respinse nuovamente i britannici nel gennaio e nel maggio del 42 combatte e vinse la grande battaglia di Ain el-Ghazala. I britannici dovessero ripiegare in profondità in Egitto. Tobruk fu conquistata e i panze tedeschi arrivarono fino a El-Alamen, dove il fronte si stabilizzò nell'agosto del 42. La campagna del Nordafrica ebbe una svolta decisiva nell'autunno successivo. I britannici del generale Montgomery vinsero la seconda battaglia di El-Alamen, costringendo i resti delle forze italo-tedesche e il generale Rommel a evacuare definitivamente da tutta la Libia. Tripoli cadde il 23 gennaio del 43. Contemporaneamente, un grande corpo di spedizione anglo-americano, al comando del generale Eisenhower, sbarcò in Marocco e in Algeria a partire dall'8 novembre del 42, l'operazione Torce. Dopo l'afflusso di nuove truppe italo-tedesche in Tunisia, che permise di fermare temporaneamente l'avanzata alleata da sud e da ovest, la situazione delle forze dell'asse precipitò nella primavera del 43. Privi di adeguati rifornimenti e in schiacciante inferiorità numerica e materiale, le residue forze italo-tedesche, passate al comando dei generali Giovanni Messe e Hans-Jürgen von Arnim, si arresero entro il 13 maggio del 43, mettendo fine alla campagna del Nordafrica. Nelle sue direttive del 31 marzo del 40, Benito Mussolini aveva delineato in termini generali la strategia globale, che avrebbe dovuto essere seguita dalle forze armate italiane nel caso sempre più probabile di un ingresso in guerra al fianco del Terzo Reich contro la Francia e la Gran Bretagna. Riguardo al teatro bellico nordafricano, il Duce stabiliva che a causa della difficile situazione geografica della Libia, teoricamente minacciata sia dall'Egitto britannico che dal Nordafrica francese, le forze armate della colonia, comandate da governatore, maresciallo dell'area Italo Balbo, avrebbero dovuto mantenersi sulla difensiva. Le forze francesi in Marocco, Algeria e Tunisia del general Nouguet ammontavano otto divisioni, mentre le truppe britanniche in Egitto erano calcolate dal Servizio di Informazione Italiano in circa 5 divisioni. Quindi, dopo l'entrata in guerra del 10 giugno del 40, Mussolini confermò le sue direttive difensive. La situazione cambiò con la sconfitta della Francia e l'armistizio del 24 giugno del 40 a Villa Incisa. Le colonie francesi vennero neutralizzate e il maresciallo Balbo poteva concentrare la maggior parte delle sue forze sul confine libico-egiziano. Le forze italiane in Libia del maresciallo Balbo apparivano sulla carta adeguata al teatro bellico coloniale. Alla fine degli anni 30 erano state inviate una serie di unità di fanteria destinati in realtà prevalentemente a compiti difensivi. In totale, il 10 giugno del 40, erano presenti in Libia 14 divisioni con 236.000 soldati, 1.427 cannoni, 339 carri armati leggeri e le 3, 8.039 automezzi. La regia aeronautica disponeva in Libia di circa 250 aerei, in maggioranza di modelli non molto moderni. Queste forze erano consistenti per numero, ma in realtà si trattava di reparti prevalentemente appiedati, privi da automezzi sufficienti, con gravi carenze di armamento soprattutto nei mezzi corazzati, poco addestrati alla guerra nel deserto. Le truppe britanniche presenti sul confine egiziano all'inizio della guerra dipendevano dal comando del Medio Oriente, del generale Archibald Weavell, ed erano molto meno numerose. Due divisioni con 36.000 soldati in totale, ma essendo completamente motorizzate e fornite di mezzi corazzati e meccanizzati idonei alla veloce guerra nel deserto, erano molto più mobili e si dimostrano subito pericolose per i presidi fissi italiani. Il maresciallo Balbo rivelò la superiorità tattica e tecnica dei britannici e la segnalò al maresciallo Petro Badoglio. Tuttavia, nonostante questi avvertimenti, il Comando Supremo a Roma ordinò il 28 giugno del 40 al governatore di raggruppare tutte le sue forze disponibili sul confine libico-egiziano e di invadere l'Egitto. Quello stesso giorno, il maresciallo Balbo rimase ucciso dall'abbattimento per errore del suo aereo, dall'artiglieria antiaerea italiana a Tobruk, e Mussolini nominò il suo posto come comandante superiore in Libia il cosiddetto Super Libia, il maresciallo Rodolfo Graziani, il capo di stato maggiore dell'esercito, ritenuto un esperto di guerre coloniali. Il nuovo comandante in capo, giunto sul posto, non si mostrò disposto a intraprendere subito l'offensiva in Egitto. Egli lamentò le carenzie logistiche e tecniche delle sue forze, e le difficoltà del clima e del terreno, e rinviò ripetutamente il previsto attacco. Mussolini, tuttavia, continuò a solicitare l'invasione dell'Egitto. Il duce affermava che le forze disponibili erano adeguate, che i britannici erano deboli, e che per motivi di alta politica era indispensabile raggiungere qualche successo in Nordafrica per ottenere, in caso di rapida vittoria totale dell'asse, gli obiettivi strategici dell'Italia. Il duce, dopo un colloquio infruttuoso a Roma col maresciallo, il 19 agosto inviò un ordine tassativo in cui intimava il governatore di attaccare o dimettersi. Mussolini, inoltre, in questa fase non si mostrò interessato, sulla base della sua scelta politica fondamentale di condurre una guerra parallela e autonoma rispetto al Terzo Reich, all'intervento di moderne forze meccanizzate tedesche, come era stato proposto da Adolf Hitler e dallo Stato Maggiore della Wehrmacht, dubbiosi sulla reale capacità degli italiani a sconfiggere i britannici. In realtà, nei mesi di giugno e luglio del 1940, i dirigenti politico-militari britannici erano molto preoccupati per la situazione del Mediterraneo. Furono studiati anche piani per evacuare il Mediterraneo orientale e trasferire, per la rotta del capo, le navi della Royal Navy a Gibraltar. Si temeva un'invasione italiana dell'Egitto con grandi forze. Fu soprattutto il primo ministro Winston Churchill che si oppose fermamente a questi propositi pessimistici. Egli, invece, sollecitò il raggruppamento di tutte le forze disponibili nel teatro del Medio Oriente e dell'Africa e giunse al punto di prevedere l'invio dei rinforzi della metropoli, nonostante che la Gran Bretagna fosse in quel momento minacciata da un'invasione tedesca. L'invasione italiana dell'Egitto fu un'offensiva italiana contro le forze britanniche del Commonwealth e la Francia Libera durante la campagna Nordafrica della Seconda Guerra Mondiale. L'operazione aveva lo scopo di impossessarsi del canale di Suez, partendo dalla colonia libica e attraversando l'Egitto settentrionale. Dopo diversi problemi, l'obiettivo divenne semplicemente avanzare in territorio egiziano e attaccare le forze britanniche nella regione. La decima armata italiana avanzò per più di 100 km in Egitto, ma si scontrò solo col settimo gruppo di supporto britannico, in particolare con la settima divisione corazzata britannica. Il 16 settembre del 40, la decima armata si fermò in posizioni difensive, presso il porto di Sidi Barrani in attesa dell'arrivo del Genio militare, per estendere la via Balbia con la via della Vittoria, per ottenere più rifornimenti e continuare l'avanzata verso est. All'inizio dell'ostilità, il comando superiore dell'Africa settentrionale era affidato al governatore generale maresciallo dell'area Italo Balbo. Il comando supremo in Libia possedeva due armate, la quinta armata, comandata dal generale Italo Gariboldi, al confine con la Tunisia e composta da otto divisioni, 500 pezzi di artiglieria di medio calibro, 2.200 autocarri e 90 carri leggeri da 3 tonnellate, al confine egiziano c'era invece la decima armata del generale Mario Berti, con 9 divisioni con 13.000 uomini ciascuna, 3 divisioni di camice nere con 8.000 uomini ciascuna, 1.600 pezzi di artiglieria e 184 carri leggeri. In totale in Libia vi erano 214.654 uomini, 7.024 ufficiali, 207.630 tra ufficiali e soldati, 3.208 carri, 2.100 pezzi di artiglieria, un migliaio di motociclette e 274 carri leggeri. Inoltre era presente la quinta squadra aerea della Reggio Aeronautica, agli ordini del generale della squadra aerea Felice Porro, e costituita da 315 aerei da guerra. Il 28 giugno del 40, Italo Balbo rimase ucciso mentre era di ritorno da una riconizione in territorio egiziano, quando suo aereo, un Savoia Marchetti SM-79, venne abbattuto da un cannone antiaereo italiano a Tobruk, per un fatale errore di valutazione. A sostituire Balbo fu inviato il maresciallo Rodolfo Graziani, capo di stato maggiore dell'esercito. Il corpo libico, che prese parte in prima persona nell'invasione, includeva la prima e la seconda divisione libica, e il raggruppamento Maletti, unità motorizzata. Le altre unità italiane coinvolte sono state la 63esima divisione fanteria Cirene, la 62esima divisione fanteria Marmarica, la prima divisione CCNN 23 marzo, e la seconda divisione CCNN 28 ottobre. L'invasione fu avviata da quattro divisioni, e un gruppo armato che attraversarono la frontiera. Si trattavano dalla prima divisione libica, della seconda divisione libica, della prima divisione camicia nera e della Cirene, e del gruppo motorizzato Maletti. Due delle quattro divisioni italiane, oltre a parte del raggruppamento Maletti, erano costituite da truppe coloniali native della Libia. Queste due divisioni libiche erano state create il 1 marzo del 1940, ed erano ancora in fase di preparazione e di addestramento al momento dell'attacco all'Egitto. Furono, peraltro, le prime ad essere attaccate dagli inglesi pochi mesi dopo, nel dicembre del 1940, e la loro veloce sconfitta fu l'inizio del disastro italiano nell'operazione Compass. Le divisioni della decima armata del generale Berti erano divisi nei corpi ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e nel corpo delle nuove divisioni libiche. Queste divisioni erano un'unità standard di fanteria, camice nere o divisioni coloniali libiche. Il corpo libico, il ventitreesimo corpo e il ventunesimo corpo, vennero impiegati nell'invasione. I corpi libici erano composti da due divisioni di fanteria libiche e dal raggruppamento Maletti, un'unità hoc composta da sei battaglioni motorizzati libici, agli ordini al generale Pietro Maletti. Il raggruppamento Maletti incorporava molti dei corazzati italiani disponibili, e quasi tutti i carimedi Fiat M1139. Proprio Maletti avanzò con l'esercito, mentre il comandante supremo Rodolfo Graziani rimase nel suo quartier generale a Tobruk. Il generale Berti preferì un'avanzata lungo la via costiera, col ventunesimo corpo di fanteria, poiché le divisioni non avevano alcuna esperienza di guerra nel deserto. Sarebbero state affiancate a sud dalle divisioni libiche, molto più esperte nel deserto, e dalle unità motorizzate di Maletti. Le forze di terra furono supportate dalla quinta squadra della regia aeronautica, con 300 velivoli di differenti tipi. Il comando aereo aveva quattro unità di bombardieri, una di caccia e altri tre gruppi da caccia, oltre a due gruppi da ricognizione, e due squadroni velivoli da ricognizione coloniale, con bombardieri Savoia Marchetti SM79, velivoli da supporto a terra Breda BAS 65, caccia a Fiat CR 42, e aerei da ricognizione in Mammerò 37, Caproni K 309, e Caproni K 310. La quinta squadra aerea era organizzata in modo da supportare l'esercito al fronte, e Berti poteva contare solo sul ridotto supporto della regia marina, poiché i dieci sottomarini sono stati persi nella dichiarazione di guerra, e la flotta era troppo importante per rischiare altre perdite, oltre ad essere a corto di carburante. Occupato dalle truppe britanniche nel 1882, e divenuto protettorato britannico nel 1914, l'Egitto era indipendente dal 1922, ma gli inglesi vi mantennero le truppe, in base al trattato anglo-egiziano del 1936. Le poche forze inglesi e del Commonwealth in Egitto, raggiungevano un totale di 36.000 uomini, che arrivavano a 63.500 se si contavano i soldati in Palestina. Lo scopo principale delle unità britanniche era proteggere il canale di Suez, e le rotte del Mar Rosso, vitali per l'impero. In comando di tali truppe, a metà del 1939, venne affidato al generale Archibald Wewell, assieme a tutte le truppe britanniche nei teatri del Mediterraneo e del Medio Oriente. Le forze britanniche includevano la divisione mobile egiziana, del generale Percy Hobart, una delle due formazioni corazzate britanniche addestrate, che a metà del 1939 venne rinominata a divisione corazzata, e successivamente, il 16 febbraio del 1940, venne infine nota come settima divisione corazzata. Nel 1940, il confine egiziano era difeso dalla forza di frontiera egiziana, e solo nel giugno dello stesso anno, il comando del deserto occidentale venne dato alla sesta divisione di fanteria del generale Richard O'Connor, con l'ordine di respingere indietro gli italiani se fosse scoppiata la guerra con l'Italia. Nel frattempo, la maggior parte dei bombardieri della Royal Air Force in Egitto furono spostati sul confine, mentre Malta fu rinforzata per minacciare le rotte di rifornimento italiane verso la Libia. Il quartiere generale della sesta divisione di fanteria inglese, che mancava completamente di unità ben addestrate, venne rinominato Western Desert Force, forza del deserto occidentale, il 17 giugno. In Tunisia, i francesi avevano otto divisioni, in grado di compiere solo limitate operazioni in Siria, e vi erano solo tre divisioni malarmate e maladestrate, con circa 40.000 uomini e guardie di frontiera, occupate a tenere sotto controllo la popolazione civile. Il generale Weavelle aveva in Egitto circa 36.000 uomini, inclusi unità amministrative e di supporto. Tutte le formazioni erano però incomplete, e a corto di equipaggiamenti e di artiglieria. La seconda divisione non-zelandese aveva una brigata di fanteria, un reggimento di cavalleria sotto organico, un battaglione di mitalliatrici e un reggimento di artiglieri da campo. La quarta divisione di fanteria indiana aveva due brigate di fanteria, e solo parte dell'artiglieria funzionante. La settima divisione corazzata britannica aveva due brigate corazzate, formata da due reggimenti ciascuna invece dei normali tre, e 14 battaglioni di fanteria non raggruppati in brigate. Weavelle doveva difendere l'Egitto e il canale di Suez contro 25.000 soldati italiani, secondo le stime inglesi, e circa altrettanti con base nell'Africa orientale italiana. Il gruppo di supporto, con tre battaglioni di fanteria motorizzata, artiglieria, genio militare e unità di mitalliatrici, avrebbe dovuto contrastare gli italiani se attaccato, in azione di ritardo tra il confine e Marsa Matru, mantenendo però la capacità di affrontare la forza principale italiana. A Marsa Matru, unità di fanteria avrebbero atteso l'attacco italiano, mentre nell'area desertica sul fianco, il grosso della settima divisione corazzata sarebbe stata pronta per il controattacco. Il gruppo di supporto avrebbe pausato la sua mobilità per coprire, a sua volta, il fianco dell'unità corazzata, mentre lungo la via costiera, una compagnia del primo battaglione del King's Royal Rifle Corps, corpi fucilieri reali del re, e da una compagnia di marine motorizzati dalla Francia Libera, supportate da artiglieri e mitalliatrici, si sarebbero ritirate dal confine, demolendo la strada che gli italiani avrebbero percorso. Alla fine di maggio del 1940, la RAF del Mediorente contava 205 velivoli, inclusi 96 tra Bristol Bombay e bombardieri medi Bristol Blayhem obsoleti, oltre a 75 caccia Gloucester Gladiator obsoleti e altri 34 velivoli. Il luglio giunsero 4 caccia Hurricane, di cui però solo uno poteva essere usato dalla Western Desert Force. Alla fine dello stesso mese, la Mediterranean Fleet, flotta del Mediterraneo, aveva ottenuto il controllo del Mediterraneo orientale, ed era in grado di bombardare le posizioni costere italiane e i trasporti di rifornimenti lungo il mare in Libia. La guerra fu combattuta principalmente nel deserto libico, che si estende in lunghezza per circa 390 km, da Massamatru in Egitto, fino a Ain el-Ghazala sulla costa libica, lungo la via Balbia, all'epoca l'unica strada asfaltata. Il mare di sabbia si estendeva invece in larghezza per 240 km nell'entroterra, segnando il confine meridionale del deserto. Nella Convenzione Britannica, il deserto egiziano è chiamato deserto occidentale, e include la Cirenaica in Libia. Della costa verso l'entroterra, si può trovare una distesa piatta di deserto roccioso, circa 150 metri sotto il livello del mare, che corre per 200-300 km in profondità fino al mare di sabbia. In un contesto di questo tipo, le uniche forme di vita sono scorpioni, vipere e mosche, oltre a piccoli gruppi di nomadi beduini. Le tracce beduine collegavano bene le varie oasi. La navigazione avveniva grazie al sole, alle stelle, al compasso, al senso del deserto, e a una buona percezione dell'ambiente ottenuta con l'esperienza. Quando gli italiani avanzarono in Egitto, nel settembre del 40, il raggruppamento Maletti si perse dopo Sidio Marra, scomparendo, e dovette quindi essere trovato con un aereo. In primavera ed estate, i giorni sono molto caldi, e le notti molto fredde. Il vento di Scirocco spostava nuvole di sabbia fine, le quali riducevano la visibilità a pochi metri, e penetravano negli occhi, nei polmoni, nei macchinari, nel cibo e nell'equipaggiamento. I motori dei veicoli e degli aerei necessitava di carburante speciale e filtre aerei. Infine, il terreno sterile costingeva le truppe a farsi portare acqua e cibo da magazzini distanti. La resa della Francia, e quindi la possibilità di rifornimenti regolari alla Libia, convinsero Mussolini della necessità di un'offensiva verso l'Egitto. Il 18 agosto, Mussolini comunicò a Graziani che, essendo eminente l'invasione tedesca delle isole britanniche, bisognava approfittare della situazione per puntare su Suez. Graziani, sul posto, si rese conto delle difficoltà di un'avanzata di truppe per massima parte appiedate nel deserto, e prese tempo. Il 7 settembre compiò un ultimo tentativo dilatorio, chiedendo a Mussolini di rinviare l'offensiva alla prima decada di ottobre. Il Duce replicò con l'ordine perentorio di attaccare il 9 settembre. Il 13 settembre, dopo un violento bombardamento dell'artiglieria, le avanguardie italiane entrarono in territorio egiziano. Le colonne non incontrarono una resistenza apprezzabile e non subirono dei contrattacchi degni di nota. Spesso gli inglesi non attendevano neppure l'urto e preferivano ritirarsi in buon ordine. Tre date erano state scelte per l'invasione e successivamente cancellate. Il primo piano sarebbe dovuto coincidere con l'invasione tedesca dell'Inghilterra, il 15 luglio del 40. Per attuarlo, il generale Balbo requisì tutti i veicoli della quinta armata e richiese tutti i carri medi M11 disponibili. Già in viaggio per la Libia, per rinforzare la decima armata, la quale avrebbe dovuto attraversare il confine e occupare Solum immediatamente dopo la dichiarazione di guerra. Quando i britannici contrattaccarono e gli eserciti italiani furono ralentati, l'avanzata sarebbe continuata, ma il piano iniziale venne abbandonato, quando l'invasione delle isole britanniche fu cancellata. Il secondo piano, previsto per il 22 agosto, consentiva una limitata avanzata fino a Solum, Eshwani e Lawerin, su tre linee di avanzamento. Una volta resa sicura Solum, sarebbe proseguita l'avanzata verso Sidi Barrani. Le divisioni di fanteria non motorizzate avrebbero dovuto usare la sola strada asfaltata. Tuttavia, il caldo estivo d'agosto obbligò gli italiani a ritardare l'attacco. Il terzo piano dell'invasione prevedeva di attaccare il 9 settembre, con Sidi Barrani come obiettivo, la cui presentazione al suo staff, Graziani la fece appena sei giorni prima che Mussolini desse l'ordine di attaccare. Le divisioni non motorizzate sarebbero avanzate lungo la costa e attaccato attraverso il passo Alfaia per occupare Solum e continuare poi per Sidi Barrani. Una colonna meridionale di divisioni libiche e raggruppamento Maletti avrebbero seguito la Daira Lamra fino alle piste di Bir Ar Rabia e Bir Abna per aggirare i britannici. Gli uomini di Maletti sarebbero stati all'avanguardia verso sud ed est, attraverso il deserto, ma lo staff italiano fa linea a consegnare mappe adeguate ed equipaggiamento di navigazione. Come conseguenza, il raggruppamento si perse e il 23esimo corpo armata dovette inviare un aereo per guidarli in posizione. Le divisioni libiche, infine, giunsero in ritardo al rendezvous presso Forte Capuzzo. Il fallimento fece nascere dei dubbi circa la mancanza di autocarri e vei livoli da trasporto e sul dominio britannico sul terreno che portarono ad un ennesimo cambio di programma. Il quarto piano doveva attuarsi il 13 settembre. aveva come obiettivo sempre Sidi Barrani ma stavolta anche l'area a sudo del villaggio. La decima armata, con cinque divisioni e car armati, sarebbe avanzata lungo la strada costiera. Avrebbe occupato Solum e sarebbe proseguita verso Sidi Barrani. Raggiunta quest'ultima, l'esercito vi si sarebbe consolidato, avrebbe atteso rifornimenti rispingendo i contrattacchi britannici e ripreso poi l'iniziativa verso Marsa Matru. Le divisioni non motorizzate italiane avrebbero usato la strada asfaltata, poiché sarebbero state completamente inefficaci altrove, un'operazione dettuto simile a quanto già accaduto nell'invasione dell'Etiopia stentronale anni prima. Graziani, infine, riteneva che per sconfiggere i britannici fosse necessaria una forza numerica soverchiante. Il 17 giugno, usando come base il quartier generale della 6a divisione di fanteria britannica, venne creato il comando della Western Desert Force, che comprendeva tutte le truppe che avrebbero dovuto opporsi agli italiani in cirenaica per un totale di 10.000 uomini, con aerei, carri e artiglieria. Il generale a comando, Richard O'Connor, avrebbe organizzato patrullamenti aggressivi lungo la frontiera e dominare la terra di nessuno creando colonne armate con unità della 7a divisione corazzata, che combinavano carri, fanteria e artiglieria. Queste piccole forze regolari, ben addestrate, compirono il primo attacco ai convogli italiani e alle postazioni fortificate lungo il confine. Le pattuglie britanniche si avvicinarono al confine l'11 giugno per dominare l'aria, pressare le guarnigioni italiane dei forti di fanteria e organizzare imboscate sulla via Balbia. Alcune truppe italiane non sapevano neppure che la guerra era stata dichiarata e una settantina di uomini furono catturati lungo la pista di Sidi Omar. Le pattuglie giungevano a nord fino alla strada costiera, tra Barida e Tobruk, a ovest fino a Birra e il Gubi e a sud fino a Jarabub. In una settimana, l'11 reggimento Usseri si impossessò di forte Capuzzo e, in un'imboscata ad est di Barida, catturò il comandante del genio militare della decima armata, il generale Lastucci. I rinforzi italiani giunsero infine al confine, iniziarono pattugliamenti di ricognizione, migliorarono le difese di confine e ripresero forte Capuzzo. Il 13 agosto i raid britannici furono fermati per conservare la funzionalità dei veicoli e il gruppo di supporto della settima divisione corazzata si posizionò, osservando 100 km di confine da Solum a Forte Maddalena pronto ad attuare il piano di ritardo se gli italiani avessero invaso l'Egitto. Il 23esimo corpo d'armata del generale Bergonzoli guidò l'attacco della decima armata in Egitto, diretto a Sidi Barrani lungo la strada costiera con formazioni motorizzate e non. Un corpo d'armata aveva ricevuto 8 carri sufficienti per motorizzare parzialmente 3 divisioni, mentre una sola fu motorizzata completamente. Bergonzoli voleva come avanguardia il primo raggruppamento carri, due divisioni di fanteria motorizzata più un'altra divisione motorizzata come riserva. Le due divisioni di fanteria non motorizzata libiche si mostrano a piedi con raggruppamento maletti come retroguardia. Il primo raggruppamento carri venne tenuto come riserva eccetto il 62esimo battaglione carri leggeri che fu affiancato alla 63esima divisione marmarica e il 63esimo battaglione carri leggeri assegnato alla 62esima divisione cilene. Il secondo raggruppamento carri rimase a Barida eccetto il nono battaglione carri leggeri che si mosse assieme alla seconda divisione libica pescatori. Il secondo battaglione carri medi fu parte del raggruppamento maletti che aveva tre battaglioni di fanteria totalmente motorizzati. Il 9 settembre l'attività della regia aeronautica fu incrementata e i bombardieri del 55esimo del 113esimo e del 211esimo squadrone della Royal Force compirono la rappresaglia contro gli italiani colpendo i campi di evazione e i centri di trasporto di fornimenti oltre ad eseguire un ride su Tobruk con 21 aerei. Più tardi lo stesso giorno 27 cacce italiani eseguirono l'ispezione sopra Bukbuk e la RAF reagì con altri attacchi agli aeroporti italiani. La ricondizione aerea britannica rivelò un massiccio movimento di terra presso Barida Sidi Azeiz Gabbre Salè e verso Sidi Omar da Ovest che venne interpretato come l'inizio dell'invasione. L'avanzata della decima armata mise a nudo le limitazioni della mobilità e navigazione italiane quando il raggruppamento Maletti si perse dirigendosi verso Sidi Omar Il 10 settembre gli autoblindi dell'undicesimo reggimento Ussari avvistarono il raggruppamento Maletti mentre una finta nuvola di sabbia schermò i britannici che scivolavano via indisturbati. Quando la tempesta di sabbia cessò gli Ussari furono attaccati dall'aviazione dai carri e dall'artiglieri italiani. Il 13 settembre la prima divisione CCNN 23 marzo riprese Forte Capuzzo e un bombardamento colpì Musaid appena oltre il confine egiziano che poi venne occupato. Il fuoco d'artiglieria e il bombardamento cominciarono sulla caserma che era vuota e sul campo d'aviazione a Sollum sollevando una nube di sabbia. Quando la sabbia ricadde l'esercito italiano poteva essere avvistato pronto all'avanzata contro le forze di copertura britanniche formate dalla terza compagnia Coldstream Guards da alcuni perzi di artiglieria un battaglione di fanteria supplementare e una compagnia di mitiliatrici. Gli italiani avanzarono lungo la costa con due divisioni alla guida dietro uno schermo di motociclisti carri armati fanteria motorizzata e artiglieria. Le unità italiane erano un facile obiettivo per l'artiglieria e gli aerei tuttavia la prima divisione libica si belle ben presto occupò la caserma di Sollum e proseguì verso il porto cittadino. Nella piana dell'entroterra un'avanzata italiana verso il passo di Alfaia fu rallentata da una forza di copertura composta dalla terza compagnia Colstream Guards un plotone di fucilieri in Orton Berland e dell'artiglieria prima di iniziare la ritirata nel pomeriggio quando giunsero altra fanteria e carri italiani. Nella notte due colonne della seconda divisione libica pescatori della 63esima divisione cilene e del raggruppamento Maletti da Musaid e della 62esima divisione marmalica da Sidi Omar convergettero sul passo. Durante la giornata che seguì unità italiane iniziarono a scendere dal passo verso le altre forze italiane in avanzato da Solum. Uno squadrone di uomini dell'undicesimo reggimento Usseri della seconda brigata fucilieri e di cari incrociatori del primo reggimento cari reali rallentò nuovamente le manovre degli italiani. Appena dopo mezzogiorno le truppe britanniche sulla costa si ritirarono a Buc Buc e incontrarono i forzi dell'unità di Usseri e della fanteria di marina francese a sufficienza per continuare a contrastare l'avanzata italiana. I britannici si ritirarono ad Alamma Amid il 15 settembre e Alamma il Dab il giorno seguente tentando di infliggere il massimo delle perdite senza essere a loro volta attaccati e danneggiando il più possibile la strada dietro di loro. La parte impiegata dal primo raggruppamento carri seguì la prima divisione libica e Sibelle e la seconda divisione libica e Pescatori verso Birtidan e il Kadim Ad Alam il Dab vicino a Sidi Barrani circa 50 carri italiani della fanteria motorizzata e dell'artiglieria tentarono una manovra cerchiante costringendo la compagnia Colstream alla ritirata. Il gruppo corazzato fu attaccato l'artiglieria da campo britannica e non avanzò ulteriormente ma con l'oscurità la prima divisione CCNN 23 marzo occupò Sidi Barrani. Oltre il passo le forze di copertura britanniche ripiegaro in parallelo con quelle sulla costa e la minaccia dal fianco desertico non si immaterializzò. Gli eri britannici eseguirono molte riconizioni e bombardamenti mentre la quinta squadra italiana effettuò più di 100 missioni di caccia e bombardamento sui campi di aviazione e postazioni difensive britanniche. I britannici anticiparono la decisione italiana di fermarsi a Sidi Barrani e Sofafi e cominciarono ad osservare le loro postazioni con gli occhi dell'ondicesimo reggimento Ussari dato che il gruppo di supporto si era ritirato per riposare e la settima divisione corazzata si stava preparando ad affrontare l'avanzata italiana verso Massa Matru. Le trasmissioni radio italiane suggerivano che l'avanzata sarebbe continuata a partire da Sidi Barrani ma presto fu chiaro che l'avanguardia italiana si stava trincerando a sud e sud-est di Mactila Tumar Nibewa e presso Sofafi mentre le divisioni più indietro occupavano Bukbuk Sidi Omar e il passo Alfaia La decima armata era avanzata di circa 20 km in un giorno in modo da permettere alle unità non motorizzate di seguire la manovra e una volta Sidi Barrani cominciò a costruire una catena di fortificazioni nessun attacco meccanizzato coraggioso o di affiancamento fu tentata dalle unità corazzate le migliori nel ventitreesimo corpo armata che furono usate invece come scorta della marcia sulla costa durante l'avanzata l'armata italiana subì meno di 550 vittime le tre unità mobili della decima armata cioè il raggruppamento Maletti il primo raggruppamento Carri e la prima divisione CCNN il 23 marzo fallirono nei loro intenti secondo le teorie di guerra corazzate italiane a causa della scarsa preparazione e organizzazione e del poco addestramento dell'esercito italiano che portarono ad errori grossolani nelle manovre e nella direzione del primo raggruppamento Maletti e nell'eccessiva cautela degli altri battaglioni corazzati la frettolosa motorizzazione della divisione 23 marzo disorganizzò la relazione tra autisti e fanti poiché l'unità non era mai stata destrata come divisione motorizzata l'avanzata raggiunse i siti barrani con perdite moleste ma non riuscì ad arrecare a molti danni britannici il 21 settembre erano rimasti 68 carri M11 dei 72 iniziali in Libia il primo battaglione carri medi aveva 9 carri utilizzabili e 23 inservibili mentre il secondo battaglione carri medi possedeva 28 carri ancora funzionanti e solo 8 inutilizzabili la forza dei corazzati medi italiani sarebbe dovuta crescere con l'arrivo dei nuovi Fiat M1340 i quali possedevano un cannone da 47 mm il secondo battaglione carri medi con 37 M13 giunse in Libia all'inizio d'ottobre seguito dal quinto battaglione carri medi con 46 M13 il cui arrivo era previsto per il 12 dicembre a metà di novembre l'italiano avevano 417 mezzi corazzati tra leggeri e medi in Libia ed Egitto le opere di riparazione cominciarono subito sulla strada costiera rinominata via della vittoria a partire da Barida e fu cominciata la posa di tubature d'acqua che non sarebbero dovute essere pronte prima di metà di dicembre dopo cui una ripresa dell'avanzata non sarebbe andata oltre a Massa Matru il 26 ottobre Mussolini l'avanzata italiana verso Massa Matru fu programmata per metà dicembre il 17 dicembre la Mediterranean Fleet cominciò a danneggiare le comunicazioni italiane e la baia di Benghazi fu minata un cacciatore perdiniere e due navi mercantili furono affondate da Siluri mentre un altro cacciatore perdiniere finì su una mina subacqua e si inabissò il bleiame della RAF distrusse tre in pista all'aeroporto di Benina e Sollum venne colpita da una cannoniera oltre a due cacciatore perdiniere che bombardarono Sidibarrani un tentativo per bombardare Barida venne eseguito da un incrociatore e alcuni cacciatore perdiniere ma fu impedito da un attacco ad aerosiluranti italiani che riuscirono a mettere fuori il combattimento un incrociatore tutte queste operazioni di lavoramento obbligarono gli italiani a spostare i depositi più dentro terra ma ciò permise alle piccole battuglie britanniche di avvicinarsi ed ottenere informazioni sulle risorse del loro nemico Operazione Compass in inglese Operation Compass era il nome in codice assegnato dai britannici all'offensiva sferrata durante la seconda guerra mondiale in Africa centrionale della Western Desert Force contro le forze italiane che erano penetrati in Egitto la controffensiva ebbe inizio nel dicembre del 40 con solo 30.000 soldati ma completamente motorizzati e dotati di circa 275 cari armati tra cui cari pesanti Matilda per sconfiggere la decima armata del maresciallo Graziani che c'era posizionata a sede del Barrani a circa 100 km dal confine libico la campagna iniziata come un attacco locale alle forze italiane a sede del Barrani si trasformò a causa della facile vittoria britannica e dell'ineficace e disordinata difesa italiana in un'offensiva generale che dopo due mesi e dopo quattro battaglie campali sia del Barrani Bardia Tobruk e Bedafon si concluse con la totale disfatta delle forze del maresciallo Graziani la vittoria delle moderne forze molto corazzate britanniche e la conquista della Cirenaica Mussolini fu quindi costretto per il rischio concreto di perdere anche la Tripolitania e per inferiorità tecnico-operativa delle residue forze italiane in Africa a chiedere in aiuto a Hitler il rapido intervento dei reparti corazzati tedeschi a differenza delle sue pubbliche dichiarazioni trionfalistiche nel suo telegramma del 18 settembre Graziani era evidentemente cosciente delle difficoltà e invitava alla prudenza giungendo fino a scontrarsi duramente col Duce e a sollecitare nel suo messaggio del 29 ottobre una nuova eventuale sostituzione con un altro generale in cui il comando supremo riponesse maggiore fiducia lo stesso Mussolini dopo una fase di grave disappunto e di pesanti critiche rivolte a Graziani aveva infine deciso di sopra il sedere da ogni nuova avanzata comunicazione a Graziani del 1 novembre del 40 aveva inoltre rifiutato per motivi propagandistici e di prestigio l'aiuto tedesco sollecitato da Adolf Hitler e pianificato fin dal viaggio del generale Fontoma in Libia rinviandone il concorso dopo la sperata conquista di Massa Matrou e aveva invece dirottato la sua attenzione verso un nuovo teatro bellico indirizzando le sue mire verso la Grecia la cui invasione era già iniziata il 28 ottobre del 40 dopo la decisione di arrestare le operazioni offensive quindi le forze italiane si erano schierate intorno a Sidi Barrani organizzando una serie di grandi campi trincerati dotati di numerosa artiglieria ma scarsamente forniti di riserve corazzate con l'esclusione di un centinaio di carri leggeri CV-35 e di un battaglione di mediocri carri medi M11-39 e soprattutto non collegati tra loro e quindi incapaci di sostenersi reciprocamente e vulnerabili a eventuali penetrazioni meccanizzate delle forze mobili britanniche durante l'estate le 40 la situazione politico-strategica della Gran Bretagna sembrava drammaticamente compromessa di fronte alla minacciosa presenza tedesca sulle coste della Manica e agli incessanti attacchi aerei della Luftwaffe nonostante l'indubbia gravità del momento il primo ministro Winston Churchill tuttavia sbandierava un aggressivo ottimismo e una notevole combattività in primo luogo organizzando le difese aeree sull'isola e poi organizzando operazioni scassamente efficaci dal punto di vista strategico ma utili sul piano della propaganda di guerra la distruzione della flotta francesa la messa del Kabir e la battaglia di Dakar e infine premendo sui comandanti subordinati sul posto per una condotta offensiva nel Mediterraneo e in Africa contro la potenza italiana considerata il punto più debole dell'asse non mancarono quindi contrasti anche nel campo britannico tra Churchill impaziente e desideroso di una condotta aggressiva delle forze imperiali schierate in Medio Oriente e il generale Archibald Weavell l'esperto e capace comandante inglese di quel teatro bellico di fronte alla prudenza del generale dovuto anche alla limitatezza delle sue forze e alla vastità dei suoi impegni strategici estesi dall'Egitto alla penisola arabica dalla Siria al Golfo Bersico e anche all'Africa orientale Churchill ipotizzò anche una sua sostituzione finendo poi per convenire nella necessità di importanti rinforzi per difendere efficacemente l'Egitto la pianificazione operativa di Archibald Weavell e del generale Henry Wilson posto al comando della fittizia armata del Nilo in realtà inesistente prevedeva fino a metà di settembre la costituzione di un raggruppamento operativo cioè la Western Desert Force comandata dall'abile generale Richard O'Connor posto a difesa dell'importante piazzaforte di Massa Matru dove si prevedeva di attendere le colonne di Graziani per spingere l'attacco e passare eventualmente alla controffensiva di fronte alle incertezze operative e alle debolezze tattiche evidenziate dagli italiani il generale O'Connor fu il primo ufficiale inglese a ipotizzare fin dalla fine di settembre un'offensiva preventiva britannica di sorpresa direttamente a Sidi Barrani senza attendere il nemico Massa Matru e il generale Weavell ne parlò il 15 ottobre direttamente al ministro della difesa britannico Anthony Eden giunto in visita al Cairo per valutare la situazione naturalmente gli aggressivi progetti offensivi di Weavell O'Connor incontrarono la piena approvazione di Churchill che nel frattempo aveva provveduto a inviare attraverso la ruota del capo importanti rinforzi di truppe materiali l'ammiraglio aveva rifiutato di provare un viaggio dei convogli attraverso il Mediterraneo come suggerito inizialmente dall'impaziente primo ministro a metà ottobre dopo aver attraversato il Mar Rosso senza opposizione delle forze italiane in Africa orientale i convogli britannici giustero in Egitto rafforzando in modo notevole la Western Desert Force di O'Connor e trasformandola in un raggruppamento operativo interamente mobile dotato di carri armati moderni e efficaci e appoggiato da un'aviazione addestrata e numerosa il convoglio trasportava tre battaglioni corazzati uno dotato di carri pesanti Matilda e due di carri armati Medi Cruiser con 154 carri armati in totale 48 cannoni anticarro da 2 libre 45 cannoni campali da 25 libre e 20 cannoni antiaerei che permissero di completare l'organico della settima divisione corazzata i futuri famosi topi del deserto trasformandola in una potente unità meccanizzata in grado di dominare il campo di battaglia nel deserto nonostante i nuovi attriti tra il comando del Cairo di Weavelle e Churchill desideroso ora di dirottare una parte delle forze terrestri e aeree attraverso il Medio Oriente per aiutare la Grecia nel frattempo attaccata agli italiani il 28 ottobre il progetto offensivo britannico contro il raggruppamento italiano di Sidi Barrani venne organizzato e perfezionato nelle settimane successive al viaggio di Eden e grazie alla perspicacia tattica del generale O'Connor venne architettata una dace manovra notturna nel deserto per cogliere di sorprese gli italiani e ottenere un risultato decisivo il progetto denominato operazione Compass bussola in riferimento all'utilizzo di questo strumento per muoversi nel deserto o anche a cerchiamento visto il piano operativo sul terreno adottato dai britannici venne infine definitivamente stabilito per il 9 dicembre del 40 lo schieramento adottato dalla decima armata italiana comandata dal generale Mario Berti al momento dell'offensiva peraltro in licenza in Italia era gravemente carente in particolare disperdeva le sue cospicue forze poste a difesa delle postazioni conquistate a Sidi Barrani in postazioni trincerate molto separate e non collegate tatticamente tra loro in mancanza di solide riserve corazzate questa disposizione esponeva le truppe italiane al rischio di essere aggirate e distrutte a gruppi da un nemico indubbiamente più mobile e meccanizzato il maresciallo Graziani in verità non mancò di evidenziare ripetutamente le manchevolezze dello schieramento della decima armata ma posizionato sul posto di comando sotterraneo a Cirene e isolato dalle forze al fronte il maresciallo non esercitò un'energica ed efficace azione di comando nel dettaglio la decima armata schierava in prima linea il corpo d'armata libico del generale Sebastiano Gallina con la prima divisione libica a Mactila a est di Sidi Barrani vicino alla costa la seconda divisione libica a Tumar e il cosiddetto raggruppamento Sariano Maletti dal nome del suo comandante generale Pietro Maletti più a sud ovest a presidio di Nibeua i collegamenti tra i vari campi trincerati in cui erano asseragliate queste forze erano molto carenti in secondo scaglione a 20 km di distanza a ovest direttamente a Sidi Barrani era posizionata la quarta divisione CCNN 3 gennaio più indietro erano presenti due divisioni del ventunesimo corpo d'armata generale Carlo Spatocco con la 63esima divisione fanteria Cirene schierata sul rilievo roccioso Sofafi 30 km a sud ovest di Nibeua e la 64esima divisione fanteria Catanzaro a Bucbuc sulla costa a circa 25 km a ovest di Sidi Barrani l'importantissimo settore compreso Fra Nibeua e Sofafi esposto a una pericolosa penetrazione corazzata britannica che avrebbe potuto dirigere verso la costa e minacciare l'intero schieramento italiano non era solidamente occupato ma solo pattugliato da deboli reparti esploranti in totale le forze italiane mettevano in campo circa 50.000 uomini con 400 cannoni 60 cari leggeri e 30 cari medi M11 Schierati più a ovest ma non destinate a essere coinvolti nel primo attacco britannico vi erano i restanti reparti della decima armata italiana il 23esimo corpo armata del generale Annibale e Bergonzoli schierava la prima divisione CCNN 23 marzo a presidio di Barida la seconda divisione CCNN 28 ottobre a protezione dei passi di Solum e dell'Alfaia e la divisione fanteria marmarica tra Sidi Omar e Ciglione di Solum ancora più a ovest in riserva vi era il 22esimo corpo armata con la divisione fanteria Sirte e la brigata corazzata speciale Babini dal nome del suo comandante generale Valentino Babini dotata di tre battaglioni di cari medi M13-40 e uno di M11 ma ancora in addestramento la Western Desert Force del generale O'Connor metteva in campo per l'operazione due divisioni al completo la settima divisione corazzata e la quarta divisione fanteria indiana una formazione ad hoc costituita con una parte della guarnigione di Marsa Matru e ribattezzata Gruppo Selby composta dal terzo battaglione del reggimento Colstream Guards da tre compagnie di fanteria e da uno squadrone di autoblindo del settimo reggimento Ussari e il settimo Royal Tank Regiment RTR dotato di 50 carri Matilda la sesta divisione australiana stava completando il suo destramento in Palestina e sarebbe giunta più tardi in totale i britannici mettevano in campo 36.000 uomini con 120 pezzi di artiglieria 68 blindo e 275 carri armati di cui 145 carri leggeri VKS MK6 80 Cruiser MK3 e 50 Matilda l'intenzione di Weavelle era di attendere l'avanzata italiana verso Marsa Matru per poi sorprendere gli italiani in campo aperto ma dato che ormai era passato anche il mese di novembre del 40 pensò che non si potesse più aspettare oltre anche il generale O'Connor era dell'avviso che un attacco frontale al campo centrale italiano nella zona di Sidi El Barrani sarebbe stata la cosa migliore per mettere a punto il piano d'attacco vennero effettuate alcune ricognizioni che evidenziarono come i campi minati italiani erano incompleti nella parte posteriore per consentire l'arrivo dei rifornimenti ai campi tricerati italiani fu un errore fatale poiché i britannici sarebbero arrivati di sorpresa attraverso i varchi nei campi minati italiani dopo averli aggirati il piano iniziale britannico prevedeva di lanciare una manovra girante sul fianco delle truppe del corpo armato libico il più avanzato dei reparti italiani con la settima divisione corazzata che avrebbe dovuto manovrare per interrompere i collegamenti con le retrovie e con la quarta divisione indiana appoggiata dai matilda del settimo rtr a condurre l'attacco principale il gruppo selby avrebbe invece lanciato un attacco diversivo lungo la costa contando anche sul supporto di alcune unità della royal navy l'intera operazione era concepita più che altro come un'incursione in forze contro le avanguardie dello schieramento italiano con la speranza di scompaginare la sufficienza da permettere la riconquista di Sidi Barrani la possibilità di spingersi oltre il confine libico non era nemmeno presa in considerazione l'operazione Compass ebbe inizio la mattina di sabato 7 dicembre del 40 quando i bombardieri della Royal Air Force lanciarono un massiccio attacco sorpresa contro gli aeroporti italiani l'azione non serviva solo a privare gli italiani della copertura aerea ma anche a coprire l'avanzata delle parti britannici obbligando i riconitori nemici a rimanere a terra le truppe di terra si mossero con lo stesso pomeriggio per intraprendere una lunga marcia 110 km in pino deserto per agire allo schieramento italiano l'avanzata delle parti britannici rimase totalmente nascosta agli italiani nel primo campo trincerato italiano era Nibewa un rettangolo di circa un chilometro per due circondato da muri e da un fossato anticarro ma con un campo minato incompleto sul lato posteriore per permettere i veicoli di rifornimento di accedervi più agevolmente questa circostanza venne prontamente notata dalle parti di riconizione britannica il campo era presidiato dal raggruppamento sareiano maletti una formazione mista composta dalle parti di fanteria libica ed alcuni battaglioni di carri armati italiani il battaglione di carri medi M11 della formazione non stanzionava all'interno del campo ma l'aperto fuori dal muro perimetrale alle 7 del 9 dicembre del 40 l'artiglieria britannica iniziò un violento bombardamento contro le postazioni italiane cogliendo totalmente di sorpresa i reparti che le presidiavano verso le 7.45 iniziò l'attacco dell'undicesima brigata franteria indiana appoggiata dai carri del settimo RTR che ebbero facilmente ragione dei più leggeri carri M11 distruggendone 15 e catturando gli altri senza quasi dar tempo ai carristi italiani di reagire le truppe angloindiane penetrarono nel campo dall'angolo nord-ovest ingaggiando un furioso combattimento contro i reparti libici che lo presidiavano gli italolibici si batterono accanitamente ma la situazione tattica la sorpresa e la superiorità britannica finirono per aver ragione sulla resistenza della base di Nibeua dopo 3 ore il combattimento ebbe termine il raggruppamento sarayano-maletti venne completamente orientato con 800 caduti 1300 feriti e 2000 prigionieri lo stesso generale Maletti fu colpito mortalmente mentre era ancora in pigiama e con una mitra elettrice sparava contro i carri inglesi mentre il figlio fu ferito e catturato i britannici persero una cinquantina di uomini tra morti e feriti la cattura del campo trincerato di Nibeua aprì un varco nello schieramento italiano con una conversione verso est verso le 13 la quinta brigata fanteria indiana poi raggiunta dal settimo RTR si avventò su tre campi trincerati affiancati nei quali era schierata la settima divisione libica attaccandoli dal retro dopo un bombardamento all'artiglieria preliminare durato un'ora nonostante la canita resistenza alle 6 di sera la divisione aveva cessato praticamente di esistere con solo pochi reparti che riuscirono a fuggire verso Sidi Barrani la prima divisione libica rimasta isolata ricevette l'ordine di ripiegare immediatamente sulla stessa Sidi Barrani mentre erano in corso questi combattimenti reparti esploranti della settima divisione corazzata britannica avevano raggiunto praticamente indisturbati la strada dei Sidi Barrani in Buk Buk tagliando così la principale via di comunicazione degli italiani l'attacco britannico proseguì il 10 dicembre quando la sedicesima brigata inglese parte della quarta divisione indiana sferrò intorno alle 5 un attacco contro Sidi Barrani ora presidiata dalla prima divisione libica e dalla divisione camice nere 3 gennaio il primo assalto venne respinto con gravi perdite ma i britannici rinnovarono l'attacco con l'appoggio dell'artiglieria pesante dei carri del settimo RTR ed i bombardieri della RAF verso le 13 i reparti di camice nere che difendevano il settore occidentale e meridionale dello schieramento cedettero di schianto permettendo ai britannici di penetrare nel perimetro italiano alle 17.30 la resistenza organizzata cessava anche se alcuni reparti di camice nere continuarono a combattere fino alla notte i resti della prima divisione libica si arresero al gruppo Selby la mattina seguente insieme al comandante del gruppo d'armata libico generale Gallina catturato con tutto il suo stato maggiore con il suo schieramento ormai compromesso Graziani diede l'ordine di far ripiegare le divisioni Catanzaro e Cirene che si trovarono ora in posizione molto esposta le due unità iniziarono il ripiegamento alle prime luci dell'11 dicembre la Cirene seppur disturbata da attacchi aerei riuscì a raggiungere il passo di Alfaia nel pomeriggio del giorno dopo mentre la Catanzaro venne sorpresa in campo aperto mentre ripiegava dai carri della settima divisione corazzata inglese e distrutta dopo una dura lotta in appena tre giorni con perdite irrisorie i britannici avevano annientato quattro divisioni di fanteria un raggruppamento corazzato e varie reparti di supporto facendo un totale di 38.000 prigionieri tra cui quattro generali le perdite italiane inclusele inoltre 47 ufficiali e 2.147 soldati uccisi e 78 ufficiali e 2.208 soldati feriti impressionato dal successo ottenuto O'Connor affidò alla settima divisione corazzata il compito di portare avanti l'azione ma dovete rinunciare alla quarta divisione indiana meno la sedicesima brigata inglese rimasta in Libia trasferita sul fronte del Sudan per prendere parte la campagna dell'Africa orientale italiana il suo posto venne preso dalla sesta divisione australiana seppur ancora incompleta l'attacco della settima divisione corazzata contro le postazioni italiane iniziò al 13 dicembre le truppe italiane si batterono bene e riuscirono a contenere gli attacchi britannici anche grazie all'intervento dei carri M13 della brigata Babini il 14 dicembre dopo aver appreso che i britannici erano riusciti ad aggirare il fianco dello schieramento e si trovavano ad appena 25 chilometri da Tobruk Graziani M13 della brigata di Bambini inviati a Nelgazala per proteggere Tobruk la cinta perimetrale di Barida lunga 30 chilometri non era particolarmente robusta ma il Bergonzoli fece il possibile per rafforzarla isolata la piazza forte da terra il tredicesimo corpo armato britannico la nuova denominazione della Western Desert Force iniziò l'attacco a Barida il 3 gennaio del 41 dopo un prolungato bombardamento da terra e dal mare che indebolì notevolmente le difese italiane appoggiata dai 26 superstiti Matilda del settimo RTR la fanteria della sesta divisione australiana riuscì ad aprire un parco nel settore occidentale già alle ore 7 la battaglia si frazionò in una serie di piccoli scontri molto duri in corrispondenza dei capisaldi tenuti dagli italiani sfondando il perimetro difensivo gli australiani attaccarono all'alba del 4 gennaio il settore sudorientale dove i capisaldi tenuti dai reparti della cirene vennero attaccati dal retro e travolti l'abitato di Barida venne occupato alle 16 dello stesso giorno l'estremità settentrionale del perimetro italiano venne attaccata all'alba del 5 gennaio dopo un intenso bombardamento d'artiglieria verso le 13 la resistenza organizzata cessò del tutto ma il generale Bergonzoli riuscì ad evitare la cattura percorrendo a piedi 120 km di deserto tra Barida e Tobruk dove giunse il 9 gennaio con un piccolo gruppo di ufficiali con la perdita di 456 uomini i britannici avevano inflitto agli italiani circa tra i 25.000 e 45.000 tra morti 44 ufficiali e 1.659 soldati e feriti 138 ufficiali e 3.602 soldati e prigionieri tra i 25.000 e i 45.000 il successivo obiettivo per le truppe di O'Connor è la Tobruk importante porto sul Mediterraneo e ultima piazzaforte fortificata rimasta in mani italiane in Cirenaica la città venne raggiunta dai reparti della 7a divisione corazzata britannica già il 6 gennaio anche se venne completamente circondata solo il 9 gennaio la città disponeva di una robusta cinta fortificata più solida di quella di Barida e lunga ben 54 km ma le truppe presenti nella piazza erano scarse oltre alla divisione fanteria Sirte ancora al completo erano presenti solo pochi reparti a presidio e un gruppo raccoliticio di unità scampate le precedenti battaglie oltre all'obsoleto incrociatore San Giorgio impiegato come batteria d'artiglieria galeggiante nel tentativo di migliorare le difese il comandante della piazza generale Enrico Pitassi Manella fece interrare in più linea d'arco 39 carri M11 e 32 carri L in avaria al fine di utilizzarli come bunker improvvisati nonostante simili accorgimenti la linea italiana risultava debole e priva di profondità a causa della scassità di truppe dopo un prolungato bombardamento dal mare da terra e una serie di attacchi aerei portati dai bombardieri Vickers e Wellington alle 5.40 del 21 gennaio iniziarono gli attacchi della sesta divisa in australiana supportata dai superstiti 18 Matilda del settimo RTR già alle 7 si era aperta una breccia nel settore sudorientale breccia subito sfruttata dalle parti australiani i combattimenti furono molto duri in particolare intorno a semicerchio dei carri interrati dove le perdite italiane furono elevate intorno alle 13 gli italiani tentarono un disperato contrattacco con l'appoggio degli ultimi 7 M11 ancora in grado di muoversi riuscendo ad arrestare momentaneamente l'avanzata degli australiani ma la scassità di truppe impedì che l'azione potesse aver seguito nel tardo pomeriggio entrarono in battaglia i reparti della settima divisione corazzata britannica che aprirono breccia nel settore occidentale a sera quasi metà del perimetro fortificato era ormai nelle mani dei britannici alle 4 e 15 del 22 gennaio con i reparti britannici ormai prossimi ad entrare nella stessa Tobruk l'incrociatore San Giorgio si autofondò nel porto della città intorno alle 16 si arrendeva anche l'ultimo caposado italiano il tradicismo corpo armato britannico perse circa 400 uomini in tutto infliggendo agli italiani la perdita tra i 15.000 e 30.000 uomini 768 morti tra cui 18 ufficiali 2280 feriti tra cui 30 ufficiali e tra i 12.000 e 30.000 prigionieri i resti della decima armata italiana ora comandata dal generale Giuseppe Tellera che aveva sostituito Berti già dal 23 dicembre si concentrarono ad Erna dove stabilirono una linea difensiva nelle parti efficienti erano ormai ridotti alla divisione fanteria sabrata appena giunta in rinforzo dalla tripolitania alla cosiddetta brigata corazzata a babini e a un raggruppamento motorizzato a cui si aggiungeva un'unità raccoliticia il settore d'Erna composta da sopravvissuti alle precedenti battaglie e posto al comando del generale Bergonzoli evacuato da Tobruk prima che iniziasse l'assedio in tutto gli italiani mettevano in campo circa 20.000 uomini con 254 cannoni 57 carri M13 25 carri L e 850 autocarri le attacchi britannici condotti dalla settima divisione corazzata con gli australiani in appoggio iniziarono il 24 gennaio le difese italiane restero bene e i carri della brigata corazzata a babini riuscirono anche a condurre alcuni efficaci contraattacchi che rallentarono la progressione britannica queste azioni divendero note come la battaglia del Michili il 27 gennaio le truppe della divisione sabrata lanciarono feroce contraattacco contro il grosso delle forze australiane valutato dagli 600 ai 1000 uomini concentrato vicino a Wadi Derna a circa 12 km della città il 29 gennaio con i britannici che minacciavano di agirare il fianco destro dell'era ordinò l'arretramento delle parti italiani e il giorno seguente gli australiani entrarono indisturbati ad Erna ormai conscio di non poter più tenere la cirenaica e preoccupato di una possibile sollevazione delle popolazioni locali il 31 gennaio Graziani ordinò la decima armata di ripiegare in Tripolitania lungo la strada costiera la grave penuria di autocarri rese però molto lento il ripiegamento italiano e già il primo febbraio la retroguarda della divisione sabrata viene attaccata e distrutta dalle truppe australiane informato dalla ricognizione aerea della ritirata italiana O'Connor decise di inviare un reparto motorizzato la cosiddetta Combe Force a tagliare la strada ai reparti italiani con una marcia forzata attraverso gli attipiani e la cirenaica mentre la sesta divisione australiana continuava a pressarli dal retro nel pomeriggio del 5 febbraio i reparti della Combe Force taglierono la strada costiera all'altezza della località di Bedafone precedendo di appena 30 minuti le avanguardie della lunga colonna italiana a cui si erano giunti numerosi civili in fuga per tutto il 6 febbraio i reparti della Combe Force composta da uno squadrone di autoblindo del 7 reggimento Ussari e da uno della King's Dragon Guards della seconda Rifle Brigade e da varie unità di artiglieria di cannone anticarro respinsero i tentativi italiani di forzare il blocco i combattimenti furono molto duri e spesso si risolsero all'arma bianca il 7 febbraio giunso i restanti reparti la settima divisione corazzata e i carri britannici iniziarono ad attaccare sul fianco la lunga colonna italiana scaglionata per più di 40 km lo stesso generale Tellera rimase gravemente ferito e morì in un ospedale da campo quella stessa mattina assunto comando Bergonzoli tentò un disperato controattacco con gli ultimi 30 carri disponibili 5 carri riuscirono a sfondare il blocco ma vennero tutti distrutti dai canoni controcarri britannici mentre si dirigevano sul quartiere generale della Rifle Brigade alle ore 9 Bergonzoli e il resto della decima armata si arresero i britannici due squadroni dell'ondicesimo Ussari si spinsero sulla Jedabia dove furono raccolti altri prigionieri e El Gajela al confine con la Tripolitania dove finalmente l'avanzata britannica si arrestò al prezzo di 2000 morti e feriti senza impiegare più di due divisioni sul campo per volta le truppe britanniche avevano completamente annientato la decima armata italiana e occupato l'intera cirenaica i dati sulle perdite italiane sono approssimativi ma tutte le fonti concordano sul numero dei prigionieri che raggiunse quota 13.000 tra cui 23 generali inoltre gli italiani ebbero 1300 cannoni e 400 carri armati distrutti o catturati oltre a una migliaia di autocarri che vennero catturati e riutilizzati efficacemente dal nemico l'ultima azione della campagna fu la conquista del presidio italiano di Cerabub rimasto tagliato fuori dall'avanzata britannica il forte si arrese il 21 marzo dopo un'eroica resistenza ad un lungo assedio la situazione italiana era quantomeno precaria visto che per difendere la Tripolitania erano disponibili appena 4 debole divisioni di fanteria della quinta armata ed alcuni reparti la 132esima divisa la corazzata a Riete appena giunti dall'Italia tuttavia i britannici non tentarono mai di avanzare su Tripoli anche se le perte umane erano state contenute i reparti necessitavano di un lungo periodo di riposo per riorganizzarsi mentre la situazione logistica era pessima le linee di rifornimento britanniche si erano allungate di parecchie centinaia di chilometri inoltre Churchill ordinò Weevil di inviare un contingente di 60.000 uomini in appoggio alla Grecia sotto attacco da parte degli italiani già dall'ottobre del 40 privandolo così delle truppe per proseguire la campagna libica il 14 febbraio del 41 arrivarono a Tripoli i primi contingenti di quello che sarebbe diventato l'Africa Corps del generale Henry Rommel la presenza delle truppe tedesche e del loro abile comandante avrebbe rivoluzionato le successive fasi della guerra nel deserto libico dando origine all'operazione Sonnenblume